Megalod 2 si farà, così sembra, a vedere le ruspe al lavoro per sollevare l'argine della sponda destra del fiume Pescara. Argini che erano stati al centro delle polemiche per il no da parte degli ambientalisti, che avevano evidenziato il rischio idrogeologico dell'area che sorgerà davanti a quello già esistente. Secondo le prime indiscrezioni si tratterà di un'area di migliaia di metri quadri, con l'edificazione di nove nuovi locali di dimensioni variabili dai 200 ai 2500 metri quadri. Ci troviamo di fronte a una situazione gravissima, è un paradosso. Da un lato noi chiedemmo già qualche anno fa la delocalizzazione di Megalod, proprio per il rischio idrogeologico altissimo, basta vedere l'allagamento che c'è stato nel 2013. Oggi addirittura si parla di Megalod 2, ma non solo. Mettiamo a disposizione circa 54 milioni di euro da parte del governo per le vasche di espansione a monte di Megalod, quindi noi mettiamo in sicurezza un territorio per continuare a cementificare. Questo non è accettabile, è una realtà ad alto rischio e proprio in questi giorni abbiamo scritto sia al Presidente D'Alfonso, in qualità di commissario per il monitoraggio sul rischio idrogeologico, al Sottosegretario Mazzocca, ma anche al Ministero dell'Ambiente e all'Unità di Missione di Governo, proprio per il rischio idrogeologico, perché questa situazione va subito chiusa, non è accettabile che si costruisca su un'area che è ad altissimo rischio idrogeologico. L'intervento degli ambientalisti punta a fermare l'opera e per farlo sono stati interpellati tutti gli attori del caso, da quelli regionali fino a quelli governativi. I soggetti chiamati a intervenire sono diversi, ci troviamo di fronte a una realtà oggettiva, bisogna avere il coraggio di prendere una decisione ferma, Megalod 2 non si può realizzare.